grande fratello vip alex belli vuole abbandonare il reality in questa venticinquesima puntata del grande fratello vip 6 non si poteva non parlare del rapporto tra alex belli e solei sorge i due continuano a viversi bei momenti tutte le emozioni che vengono e non sono mancati nemmeno movimenti strani sotto le coperte nonostante l'attore abbia ormai confessato apertamente di amare solei lui non esclude nemmeno di amare sua moglie delia duran proprio per questo alex è entrato in crisi e riparte la domanda si possono amare due donne contemporaneamente belli ha detto di essere stato travolto dalle emozioni ma attualmente si trova in difficoltà perché nella casa è tutto bellissimo ma lui deve pensare alla realtà e a salvare la sua vita fuori dal grande fratello il concorrente pensa di non essere lucido e proprio per questo vorrebbe abbandonare il programma quella per lui sarebbe l'unica soluzione magari accompagnato da delia alex ha detto che una volta lasciata la casa più spiata d'italia vorrebbe tornare alla realtà senza effetti collaterali peccato che non sia al corrente che la durana ha lasciato milano dicendo quindi addio alla casa che aveva con belli nonostante alex belli avrebbe non voluto superare una certa soglia ammette lui stesso di averlo fatto pensa che sua moglie potrebbe aver capito quello che lui le ha detto quando è entrata nella casa secondo l'attore sua moglie sapeva che avrebbe gestito bene questa situazione eppure la situazione è sfuggita decisamente di mano lasciando spazio ad emozioni sentimenti ma soprattutto sincerità alfonso signorini ha cercato di tranquillizzare alex dicendo di non avere delle risposte da parte di delia fuori dalla casa delia non avrebbe detto nulla di preoccupante da poter far preoccupare il marito e fargli abbandonare il gioco ma come non era lei che aveva scritto addio milano la notizia che delia duran è andata via di casa è ormai su tutti i giornali anche solei sorge ha cercato di far stare sereno alex i due hanno spiegato che ancora non è successo l'irreparabile tra di loro ma c'è la voglia di non far soffrire nessuno belli allora ci ripensa e per il momento rimane ancora in gioco al grande fratello vip 6 ma il concorrente potrebbe prendere una decisione differente da un momento all'altro perché è evidentemente preoccupato solei ha comunque confermato i pensieri di alex le sue affermazioni dicendo un po le stesse cose di belli la giornalista infatti ha detto che loro si sono incespugliati tante volte in questo ciclo ci sono entrati più e più volte ma sono riusciti anche ad uscirne il problema sarebbe non farsi travolgere nuovamente dalle emozioni e dalla passione ma in quella bolla chiamata grande fratello vip 6 tutto può succedere adesso bisognerà attendere le prossime ore per capire se alex belli deciderà davvero di fare questo importante passo e abbandonare definitivamente il reality show di canale 5 per riparare i danni del suo matrimonio con delia duran e salvare la loro storia d'amore che cosa ne pensate della crisi di alex belli al grande fratello vip 6 a voi i commenti se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti